Il principe Harry ha fatto sapere a molte persone che intende far battezzare Lilibet Diana a Windsor, si dice. Il duca del Sussex potrebbe essere pronto per un altro ritorno nel Regno Unito per battezzare la sua bambina, in linea con la tradizione reale. Lilibet Diana è nata il 4 giugno a Santa Barbara. Harry e Meghan Markle hanno annunciato la notizia due giorni dopo. I Sussex avrebbero seguito le orme del principe Carlo quando ha scelto Windsor per la cerimonia di battesimo del principe William. Ma una fonte reale ha detto a Eden Confidential che Harry non ha fretta di battezzare il suo bambino più piccolo. Hanno affermato. Harry ha detto a diverse persone che vogliono far battezzare Lili a Windsor, proprio come suo fratello. Sono felici di aspettare che le circostanze lo consentano. Dalla nascita di Lilibet, le speculazioni sono state diffuse sul fatto che Harry e Meghan sceglieranno di battezzarla nel Regno Unito insieme ai membri della famiglia reale. La commentatrice reale Daniela Elser ha affermato che la coppia potrebbe migliorare significativamente il loro rapporto con la famiglia reale se lo facessero. L'evento segnerebbe il primo viaggio di Meghan nel Regno Unito dal marzo 2020. In un commento per news.com.au, la Elser ha scritto. Se i Sussex dovessero decidere che volevano che il battesimo avvenisse di nuovo nel Regno Unito, forse anche a settembre, quando si dice che sia Harry che Meghan torneranno a Londra, Allora sarebbe interpretata come un ramoscello d'ulivo dopo anni di litigi e rancori intrafamiliari. L'esperto reale ha anche sottolineato che la coppia potrebbe scegliere di non battezzare affatto la figlia. Punto. Tuttavia, ha sostenuto che questa opzione sarebbe stata percepita come un segno di mancanza di rispetto nei confronti della regina. La Elser ha dichiarato. Tuttavia, se i Sussex decidessero di tenere la cerimonia in California, precludendo così alla regina che non viaggia più a livello internazionale di partecipare, sarebbe visto come niente meno che un chiaro rifiuto della famiglia reale. C'è anche una terza opzione qui. Decidono di saltare completamente un battesimo. Ma ancora una volta, anche questo sarebbe letto come profondamente irrispettoso nei confronti di Sua Maestà dato che, dopo tutto, è il capo della Chiesa d'Inghilterra.